Noi dobbiamo affrontare una volta per tutte, in maniera seria, la lotta al terrorismo intregalista islamico, all'ISI, cioè le bestie non sono Matteo Salvini, la Lega, le bestie sono i tagliatori di teste che tutti i giorni e poi ovviamente compiono delle cose atroci in Siria piuttosto che in altri paesi dell'Africa. Nell'Evola del Stato. L'Europa finalmente, oggi l'hai detto tu stessa, ha fatto una delle azioni che noi sono messi che dicevamo che occorreva fare, ossia una lotta senza confine agli scafisti, ai mercanti di uomini. Finalmente, lo dice l'Europa, noi siamo contenti, perché lo dicevamo solo noi, eravamo razzisti.